saluti ridenti settima lezione di amor proprio oggi ho fatto un post sul tema dell'essere se stessi e quindi dell'accettarsi per come si è non fingere di essere qualcun altro perché spesso le persone pensano che volersi bene voglia dire accettarsi per come si è per come ci si comporta cioè farsi andar bene se stessi per come si è perché non è che siamo sbagliati come persone ma accettarsi secondo te significa rimanere fermi per come si è cioè essere se stessi oppure diventare migliori cioè muoversi quando tu accetti una situazione rimani ferma o fermo a quella situazione oppure vai oltre vai avanti quindi volersi bene vuol dire sì accettarsi ma non per rimanere fermi ma per migliorare per diventare la migliore versione di noi stessi dal punto di vista emozionale dal punto di vista della gestione dei pensieri dal punto di vista della gestione della comunicazione interpersonale se vuoi approfondire questi temi accedi gratis su www.appi.video dove trovi tante interviste e video gratuiti e anteprime dei miei videocorsi saluti ridenti